Ben trovati ad una nuova edizione del telegiornale di TRM H24. Omicidio di Torre Maggiore nel Foggiano. Ieri i risultati dell'esame autoptico sulle vittime della furia di Talhant Malai che ha colpito il vicino di casa Massimo De Santis con 23 coltellate e sua figlia Jessica con 6 fendenti mortali. Tutti i dettagli nel servizio. 23 le coltellate che hanno ucciso Massimo De Santis e 6 i fendenti mortali contro la 16enne Jessica, tutti al torace. E' quanto accertato dall'autopsia compiuta nell'Istituto di Medicina Legale di Foggia sui corpi del barista 51enne e della ragazzina uccisi domenica scorsa a Torre Maggiore. In carcere è reo confesso per il duplice omicidio il panettiere 45enne Talhant Malai che prima avrebbe ucciso l'uomo, suo vicino di casa, convinto che avesse una relazione con sua moglie e poi ha ucciso sua figlia Jessica mentre tentava di difendere sua madre. Anche la donna, Tefta, 39 anni, è rimasta ferita nell'aggressione ed è ricoverata nel policlinico di Foggia. Il 45enne ha usato un coltello a serramanico di 18 centimetri per compiere la strage. A confermarlo è il GIP del Tribunale di Foggia nella sentenza di convalida del fermo nei confronti dell'uomo che ha confessato la mattanza. La notte tra sabato e domenica scorsi, dopo aver ucciso sul pianerottolo di casa il presunto amante della moglie, e raggiunto lì dopo aver scoperto di notte Tefta a chattare con lui, il 45enne Talhant Malai ha spiegato agli inquirenti di essere andato in camera da letto dove c'era sua moglie. L'ho colpita e nel mentre è entrata Jessica, la quale voleva proteggere la mamma. Allora io ho colpito anche Jessica e l'ho uccisa. Non mi ero reso conto che fosse lei. Jessica purtroppo si è ritrovata nel momento sbagliato. Dal letto loro due sono scappate in cucina dove ho continuato a colpirle, ha detto. E' un passaggio questo della confessione di Malai, nei confronti del quale il quadro indiziario si è inconsolidato grazie alla visione dei filmati delle telecamere presenti in casa, che hanno ripreso le scene in cui l'uomo ha colpito con chiara volontà omicida, si legge nella sentenza, sia la moglie che la figlia. Il 45enne ha anche raccontato di aver filmato la scena del crimine subito dopo essersi reso conto di ciò che aveva fatto. Il video circolato sui social e inviato dal presunto assassino a un amico è stato messo agli atti. E' in corso nel reparto di chirurgia generale del Policlinico Riuniti di Foggia l'interrogatorio di Tefta Malai, la moglie di Talant Malai che nello scorso fine settimana ha ucciso a coltellate la figlia Jessica e il vicino di casa Massimo De Santis. All'interno della stanza dove è ricoverata la donna ci sono carabinieri e magistrati. A attendere l'esito dell'incontro anche i genitori di Tefta che da pochi minuti sono stati convocati nella Camera. Aveva 66 anni Giuseppe Calabrese, il sindaco delle isole Tremiti, morto questa mattina per un malore improvviso mentre si trovava a Roma per partecipare alla cerimonia di assegnazione delle bandiere blu. Trasportato d'urgenza in ospedale nella tarda serata di ieri e deceduto alle prime luci dell'alba. Giuseppe Calabrese, da tutti conosciuto come Peppino, era molto amico del cantautore bolognese Lucio Dalla, nominato cittadino onorario delle isole Tremiti e del leader libico Gheddafi che lo insinì dell'onorificenza al Fatà per aver fatto realizzare sull'isola di San Nicola un sacrario per ospitare i resti dei 400 libici morti per un'epidemia di tifo in seguito alla loro deportazione sulle isole. Riunione al Ministero dell'Interno per l'Osservatorio Nazionale Atti Intimidatori contro amministratori locali. All'incontro ha partecipato anche il primo cittadino di Cellammare in provincia di Bari, Gianluca Vurchio. Sentiamo. C'era anche il sindaco di Cellammare Gianluca Vurchio in rappresentanza dei sindaci italiani alla riunione dell'Osservatorio Nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. La riunione alla quale hanno partecipato anche il sottosegretario Ferro, i vertici dell'amministrazione dell'interno, i rappresentanti dei ministeri della giustizia e dell'istruzione del merito, dell'Anci, dell'Upi, il presidente dell'associazione di avviso pubblico e il prefetto di Venezia è servita per fare il punto sulle risorse messe a disposizione dal governo per dare concreta attuazione alla prevenzione del fenomeno. Io sono stato invitato dal ministro in quanto uno dei sindaci oggetto di atti intimidatori e di alcune minacce ricevute in passato con un intervento in nome, per conto o meglio in rappresentanza di tutti i sindaci italiani. L'Osservatorio ha preso atto di una serie ovviamente di dati, tra cui quelli che sono appunto i dati che si registrano a livello nazionale e ha fatto il punto su quella che è la situazione relativa ai contributi per attività diverse, tra cui il ristoro dei fondi per i danni subiti e o in alternativa anche la possibilità di utilizzare questi contributi per attività di prevenzione sul territorio o di progetti a favore della legalità e contro le mafie. Ci sono state diverse proposte avanzate dall'Associazione Nazionale Addiso Pubblico. La prima è l'incremento dei fondi, sono fondi messi a disposizione dal precedente governo nella misura di 5 milioni di euro per tre anni. Quest'anno c'è un implemento di circa un milione di euro e la possibilità di prevedere un supporto psicologico per i sindaci, oggetto di atti intimidatori e di minacce. Il Ministero dell'Interno ha assegnato al nostro comune un contributo di circa 13 mila euro e abbiamo deciso di non ristorare con quei soldi i danni che ha subito il comune, ma abbiamo deciso di impegnare tutte quelle risorse per progetti sulla legalità che stiamo facendo all'interno delle nostre scuole. Caro Affitti, la protesta è arrivata anche a Bari dove gli studenti si sono accampati da ieri con le tende e oggi hanno organizzato un flash mob nei pressi dell'Ateneo. Studiare, l'abitare è un diritto e per questo per noi è diventato ormai insostenibile. L'università deve essere un posto accessibile anche per le case. Arriva anche a Bari, dunque, la protesta degli studenti universitari contro il caro Affitti. Partita da Milano quando una studentessa si è accampata con una tenda all'esterno del Politecnico, la mobilitazione ha raggiunto in pochi giorni tutte le città universitarie italiane. Ieri le tende davanti all'ingresso dell'Ateneo, oggi il flash mob in cui i ragazzi hanno simulato di giocare a Monopoli. Una situazione, quella degli Affitti, diventata insostenibile soprattutto negli ultimi anni con l'aumento dei costi della vita e dell'inflazione. Gli studenti chiedono maggiori sostegni, ma anche che gli alloggi delle agenzie regionali siano più facilmente accessibili. Vengo dalla provincia di Foggia e da quando mi sono trasferito i prezzi sono aumentati di quasi 100 euro in tre anni. Sono prezzi che se ammontati in un periodo annuale tolgono parecchio le condizioni economiche di una famiglia. Quindi, diciamo, si aggiungono quasi quattro mensilità nell'arco di un anno. Non sono una roba da poco. Un affitto di oltre 250 euro con le utenze a parte. Ciò significa che anche a causa dell'inflazione e della forte crisi economica che stiamo vivendo, le utenze erano alle stelle. A manifestare solidarietà agli studenti è anche l'assessore all'istruzione del comune di Bari, Paola Romano, e la segretaria provinciale della CGL, Gigi Avulci. Esprimo la solidarietà dell'amministrazione comunale alla manifestazione degli studenti. Già da alcuni mesi abbiamo dialogato con loro, stiamo dialogando con loro proprio per mettere in campo delle misure che possano aiutare gli studenti a esercitare il loro diritto allo studio nella nostra città. Le amministrazioni non hanno tanti strumenti, ma tutto quello che possiamo fare lo faremo. Nelle ultime ore il governo, incalzato dalla protesta degli studenti, ha sbloccato a loro sostegno fondi dal PNRR per 660 milioni di euro. Questo il commento a proposito della CGL Bari. Non sono sufficienti, il governo continua ad ignorare queste proteste, continua ad ignorare il disagio del paese, continua ad ignorare i problemi reali. Per noi essere qui oggi è un dovere morale che stiamo mettendo in campo, non solo a Bari, ma in tutte le piazze. Lunedì il vicepresidente della Commissione Europea France Timmermans sarà a Taranto per partecipare a un dialogo con i cittadini sulla transizione verde in città e nella regione Puglia. In mattinata incontrerà il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, gli imprenditori che lavorano nella Green Hydrogen Valley di Taranto per discutere i piani della città, per diventare un hub per la produzione e il trasporto di idrogeno rinnovabile. Nel pomeriggio Timmermans visiterà Belle Eolico, il primo parco eolico offshore del Mediterraneo. Meloma e tumori della pelle in occasione del mese di maggio dedicato alla prevenzione sul tema a Bari una due giorni ospitata da Villa Romanazzi Carducci di approfondimento con i massimi esponenti italiani della materia. Melanoma e tumori della cute. A maggio, mese dedicato alla prevenzione di questa tipologia di cancro, gli esperti si mettono a confronto e lo fanno anche a Bari, in una due giorni ospitata da Villa Romanazzi Carducci, incentrata in particolare sul melanoma, che di fatto rappresenta la neoplasia cutanea a maggiore incidenza nella popolazione giovane di entrambi i sessi. È una patologia della popolazione giovane, prevalentemente dei under 50, quindi uomini e donne, prevalentemente sesso maschile, seconda causa oncologica, sesso maschile terzo nella donna, che sono patologie che richiedono competenze traslazionali, per cui è fondamentale che tutta la nostra popolazione si rivolga a centri di riferimento regionale, che sono assolutamente validi e presenti. Un momento importante di confronto, è molto utile a tracciare un bilancio anche sui risultati dei nuovi trattamenti di cura disponibili, dalle terapie alla chirurgia innovativa. Il melanoma in particolare è probabilmente la patologia più avanti da un punto di vista oncologico, dell'innovazione terapeutica, non abbiamo più l'utilizzo della chemioterapia se non in casi eccezionali, esclusivamente nuovi farmaci, e soprattutto credo che sia l'unica patologia attualmente per la quale forse possiamo spingerci nell'utilizzo del termine guarigione in oncologia, cosa che in realtà fino ad oggi è difficile poter utilizzare. Fondamentale nell'ottica del miglioramento delle aspettative di guarigione è la prevenzione. L'educazione e l'esposizione solare deve iniziare nell'epoca scolare perché è un fatto educazionale, al quale la nostra generazione chiaramente non è pronta, per cui fondamentale è la prevenzione primaria, per questo le risorse vanno orientate in quel senso. A Bari il convegno CEI ho udito il suo lamento per l'ascolto degli ammalati, vediamo. È l'udito, l'ultimo dei cinque sensi di cui si parlerà nel corso del convegno, ho udito il suo lamento in ascolto dei sofferenti, partito a Bari e in programma fino al 18 maggio. A organizzarlo la CEI a Bari con il suo ufficio nazionale per la pastorale della salute, diretto da Don Massimo Angelelli. Questo conclude un percorso di cinque anni di convegni che abbiamo sviluppato sui cinque sensi per raccordare il tema della cura alla sensibilità, vedere, odorare, toccare, sono tutti i sensi che noi usiamo per la cura e quindi in questa ultima tappa con l'udito, il senso dell'udito, il senso dell'ascolto è una dimensione fondamentale della cura e abbiamo l'impressione che sia la più mancante forse, cioè il fatto che in termini di medicina, di ricerca, di percorsi terapeutici abbiamo molto, abbiamo veramente tanto, però ci rendiamo conto che anche le persone non si sentono curate e quindi forse bisogna recuperare questa dimensione dell'ascolto. Ascoltare perché la pastorale della salute sta facendo un cammino attraverso i cinque sensi, restituendo spessore teologico e anche visioni di carattere luminoso, proprio attraverso un ricontattare l'ascolto dei sofferenti, che non sono soltanto i malati, sono anche i sanitari, sono anche i curanti, e tra i curanti entrano anche i familiari, per esempio, dei pazienti. Taranto 2026, premiato questa mattina il progetto vincitore del concorso internazionale per la realizzazione della piscina olimpionica, sarà una struttura innovativa e unica nel suo genere. Vediamo. Premiato al Marta il progetto dello studio MDU Architetti di Prato per la realizzazione della piscina olimpionica di Taranto in vista dei giochi del Mediterraneo 2026, è stato scelto tra 37, prevede due piscine coperta e scoperta, spazi verdi, parco archeologico e la torre d'Aiala, che farà da porta all'area che si inserirà a pieno nei lavori del waterfront. Costerà 30 milioni e sarà consegnato in tempo per i giochi, un progetto in linea e in continuità con la città, innovativo e sostenibile. I temi del progetto sono due. Il primo tema è quello di ottenere un inserimento armonico nel contesto paesaggistico del territorio, tenendo conto delle stanze che caratterizzano il territorio, quindi la costa, il parco tra il mare e la città e appunto il mare. Il secondo tema è quello di garantire al progetto un'iriconoscità, quindi una certa riconoscibilità dovuta a un'architettura comunque pubblica rappresentativa per la città. Lo stadio del nuoto sarà eredità del grande evento sportivo internazionale. È un progetto che è destinato a far parlare di sé non solo nell'ambiente sportivo, sarà un luogo, un edificio veramente molto impattante sul tessuto economico e culturale della città. Peraltro, come sapete, nel mezzogiorno sono poche le piscine olimpioniche che si prestano ad attività federali, internazionali, quindi questo sarà fuori di altre ricadute anche oltre l'eredità dell'evento, insomma dei giochi del Mediterraneo. Ci siamo rimessi al lavoro, aspettiamo adesso la nomina formale del commissario per coinvolgerlo chiaramente, correttamente in tutte le nostre attività. In mostra tutti gli altri progetti, premiati i primi 5 su 37, più ci sono due menzioni speciali. Giornata europea del mare 2023, organizzato a Taranto un workshop per discutere sulla tutela del mare e la crescita dell'economia blu. Tutelare il mare per lo sviluppo sostenibile e la crescita dell'economia blu. E' questo il tema al centro del workshop organizzato dalla Fondazione Michelagnoli e dalla Camera di Commercio di Taranto in occasione della giornata europea del mare 2023. La giornata del mare è in questo territorio in particolare dove il mare rappresenta e potrà rappresentare sicuramente il mezzo, il veicolo più importante per l'economia dell'intera città ma dell'intera provincia. Il mare è fonte di vita e fonte proprio di benessere per l'Italia. Spiegare questo concetto alle nuove generazioni è oltremodo importante perché si forma la cultura del mare verso i giovani e si va nella direzione di portare avanti un programma di tutela del mare che è un dovere per chi lavora sul mare e per chi si occupa di mare. Promossa dalla Commissione europea, la giornata europea del mare offre l'occasione per riflettere sullo stato di salute del nostro mare e approfondire il tema della tutela del mare che con la recente riforma della Costituzione Salva Mare ha assunto una valenza centrale anche per le future generazioni. È una legge importante, parla di rifiuti, parla di una parte importante che riguarda il mare e i rifiuti nel mare e quindi attraverso questo disporremo col piano delle coste e cercheremo di andare di pari passo con quelle che sono poi le evoluzioni. È una legge che dà una grossa importanza ai pescatori e anche a chi va per mare occasionalmente per il recupero dei rifiuti e soprattutto si concentra sulle plastiche, le plastiche che stanno distruggendo molte aree di mare, sia oceaniche che costiere, ed è una lotta che bisogna portare avanti in ogni modo. Sono 22 le località pugliesi, 4 in più rispetto allo scorso anno, che hanno ottenuto il riconoscimento di bandiera blu per la qualità del loro ambiente. Le new entry sono Gallipoli in provincia di Lecce, Leporano in provincia di Taranto, i comuni foggiani di Vieste e delle isole Tremiti. La provincia pugliese con più riconoscimenti è quella di Lecce, che ne ha 6, oltre a Gallipoli premiati i comuni di Melendugno, Castro, Salve, Ugento e Nardò. Segue poi quella di Foggia con 5, insieme alle due citate Vieste e isole Tremiti, anche Rodi, Garganico, Peschici e Zapponeta. Quattro, quelle per la provincia di Taranto, Castellaneta, Maruggio, Ginosa e proprio Leporano, tre nel Brindisino, Fasano, Ostuni e Carovigno, due bandiere blu a testa, infine per le province di Bari, Polignano a Mare e Monopoli, e Barletta Andrea Trani con Margherita di Savoia e Bisceglie. Giornata conclusiva ieri a Monte Scaglioso per l'iniziativa Link Conference 2023. Vediamo com'è andata. Folklore, study tour e meeting sono stati questi i momenti principali che hanno caratterizzato la tre giorni della Link Conference 2023, promossa dall'agenzia di sviluppo locale Galstart 2020 nei territori di Matera Orientale, Metapontino, Basso, Sinni, presenti nelle città toccate dall'iniziativa circa 400 Gal europei che hanno potuto partecipare a visite guidate all'interno dei paesi, alla scoperta delle tipicità, ma anche alla conoscenza degli investimenti operati dal Gal e dei progetti che ne sono seguiti, frutto anche della cooperazione tra i Gal stessi. Ieri sera la serata finale con momenti di degustazione enogastronomica e di intrattenimento. Ho visto dei visi molto distesi, contenti e devo dire che è stata un'esperienza molto positiva perché tutti i nostri paesi sono stati visitati e hanno avuto modo di vedere le identità, le tante identità che la nostra regione ha, per cui sono convinto che quando questi graditi ospiti torneranno nel loro paese parleranno della nostra piccola, bellissima regione e sicuramente arriveranno tanti altri turisti. Sono avvenuti degli incontri territoriali e in particolare incontri che abbiamo definito study tour. Che cosa sono? Abbiamo fatto vedere gli investimenti che il Gal ha fatto nel suo territorio che comprende ben 15 comuni. proprio sono state fatte vedere in particolare le aziende vinicole, le aziende agricole, gli investimenti culturali, hanno potuto visitare i musei, i centri storici, sostanzialmente tutti gli investimenti che il Gal ha realizzato. Il testimone è quello del rafforzamento di questa network community, questa rete tra Gal e europei che devono consolidare i loro rapporti, intensificare le loro relazioni, promuovere nuove iniziative, nuovi progetti di cooperazione che poi devono, i cui risultati, le cui devono essere, diciamo, fatti ricadere sui territori. Si chiama Inventiamo una banconota, il concorso della Banca d'Italia ha riservato agli studenti che hanno disegnato delle banconote seguendo il loro istinto e raccontando la loro visione sul tema delle risorse della terra. Sono state due le scuole lucane ad aver vinto il concorso interregionale che ha coinvolto diversi istituti di Basilicata, Puglia e Campania all'interno dell'iniziativa dal titolo Inventiamo una banconota organizzato dalla Banca d'Italia e riservato agli studenti che hanno disegnato delle banconote seguendo il loro istinto e raccontando la propria terra. Il premio, giunto alla sua decima edizione per il 2023, ha avuto come tema il grande caldo, il grande freddo, le risorse della terra non sono infinite. I ragazzi hanno dovuto infatti preparare il bozzetto di una banconota immaginaria riflettendo su questo argomento di attualità dal forte valore sociale e di educazione finanziaria e raccontare così le loro emozioni e i loro pensieri. Le banconote vincenti che concorreranno adesso a livello nazionale per la concreta realizzazione sono state presentate nella sede della Banca d'Italia a Potenza. Mi permetto di dire un orgoglio lucano. La Basilicata è riuscita ad esprimere su nove scuole vincitrici ben due presenze e parlo dell'istituto comprensivo Luigi Lavista di Potenza in particolare della classe terza B e della classe quinta B dell'istituto statale di istruzione Superiore Giovanni Paolo II Istituto Tecnico Trasporti e Logistica di Maratea in un aggregato che ci vede insieme a Campania e Puglia quindi regioni ben più popolose e sono davvero orgoglioso del fatto che ben due istituti della nostra piccola regione ma con tante eccellenze sono riusciti a qualificarsi per le selezioni nazionali. A loro va un premio a ciascuno dei due istituti andrà un premio di duemila euro da destinare chiaramente ad attività didattiche. il segno tangibile dell'impegno della Banca d'Italia sui temi di educazione finanziaria e della collaborazione con la scuola. A 50 anni dalla morte dell'artista Giuseppe Capogrossi a Bari è stato dato il via al progetto di restauro della storica cancellata del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università. Una delle più importanti opere monumentali italiane del dopoguerra è la cancellata del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari progettata dall'artista Giuseppe Capogrossi e che a 50 anni dalla sua scomparsa è protagonista di un progetto di restauro della Fondazione Pino Pascali e della Regione Puglia nell'ambito del Piano Straordinario 2022 Custodiamo la Cultura in Puglia. Un'opera d'arte contemporanea il cui restauro presentato nelle aule dello stesso Dipartimento alla presenza del Vice Ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto trasforma un cantiere in un laboratorio aperto al dialogo e al confronto con la comunità segnando una tappa fondamentale nell'azione di tutela e riqualificazione del patrimonio artistico del territorio. La cosa abbastanza unica di questa cancellata è che è un'opera monumentale pubblica che fu consegnata alla città praticamente in contemporanea con la morte dell'artista quindi un pochino l'ultima opera sua e questo si legge anche nel fatto che è molto schematizzato il suo lavoro che di solito sono queste forchette diciamole così ricorrenti questo modulo geometrico che qui viene enfatizzato quindi è un bellissimo lascito alla città molto molto significativo dell'opera dell'artista. 72 metri è l'opera forse pubblica più importante che abbiamo in città la più grande quella che valorizza non soltanto l'università quale luogo democratico per eccellenza ma altresì la consapevolezza di molti studenti studentesse cittadini cittadini temporanei quali sono i turisti che passeggiando possono persino godere della storia di Capogrossi attraverso il cantiere evento che illustra e racconta questa storia quindi grazie alla fondazione Pino Pascali che ci rende sempre più consapevoli. L'avvio dei lavori di restauro dell'opera è stata anche occasione per la presentazione del volume dal titolo Giuseppe Capogrossi e l'architettura La Cancellata scritto dal giornalista e critico d'arte Roberto Lacarbonara Silvana Editoriale una pubblicazione inserita nella linea editoriale Leggi la Puglia in cui confluiscono tutte le pubblicazioni del Consiglio regionale pugliese. Camminando nel sentiero soleggiato della musica frammenti di un mosaico Matteo e i solisti Lucani in collaborazione con il liceo musicale Stigliani porteranno in scena musiche del 700 e del 900 fino alla canzone. Ieri le prove. Il 14 maggio alle 19.30 all'auditorium di Matera la giornata conclusiva del progetto Jazz 2.0 è un concerto che raggruppa un ventaglio musicale dal 700 di Vivaldi al 900 di Baccarise e della canzone e che vede come protagonista il direttore che svolge il suo lavoro di maestro direttore alla Scala di Milano il maestro Stefano Salvatori che è qui con noi per 5 giorni dopo aver creato un percorso musicale sul quale i ragazzi hanno lavorato dal mese di gennaio. C'è una grande fucina di talenti di giovani musicisti che hanno veramente a cuore la musica e questo mi permette di poter lavorare anche su dettagli musicali come magari con giovani di conservatorio e professionisti e questo concerto vede la presenza sia di giovani allievi dei loro insegnanti e anche di una formazione di professionisti con la quale io ho già lavorato è quella dei solisti lucani e quindi c'è veramente la possibilità di condividere tutte le esperienze insieme. Calcio Serie C nel primo turno dei play-off del Girone Meridionale va al Potenza il derby Lucano contro il Picerno passano anche Audace Cerignola e Monopoli nel secondo turno derby Appulo-Lucano tra Foggia e Potenza e altro derby però stavolta tutto pugliese tra Cerignola e Monopoli. Sarà il Potenza sfidare il Foggia nel secondo turno del play-off del Girone C i rosso-blu infatti si sono aggiudicati il primo storico derby lucano degli spareggi di Serie C battendo per 1-0 il Picerno Melandrini che in virtù del miglior posizionamento in classifica avevano guadagnato il diritto a disputare la gara tra le mura amiche del Donato Curcio ma la spinta dei tifosi della Leonessa non è stata sufficiente per gli uomini di Longo a superare il turno una gara giocata con intensità ma senza molte occasioni da rete da entrambe le parti e come sempre quando gli spazi sono stretti e mancano trame di gioco ben definite le sfide si possono risolvere sul calcio piazzato ed è proprio da corner all'ottantesimo battuto da Di Grazia che il Potenza passa in vantaggio e stefè che sul primo palo si fa trovare pronto per la girata di testa vincente che beffa Albertazzi e che fa esplodere i circa 500 tifosi ospiti finisce 0 a 1 il derby Lucano applausi per entrambe le squadre per l'ottimo cammino fatto in stagione un percorso che la potenza continua con la sfida e domenica allo Zaccheria contro il Foggia di Delio Rossi nelle altre due partite disputate per i playoff di Serie C il Monopoli ha superato di misura 1 a 0 in Latina grazie a un gol di Starita all'ottantaduesimo e l'audace Cerignola ha battuto con un perentorio 3 a 0 la Juve Stabia di Capomaggio e Tascone le marcature per i gialloblu nel primo tempo di Aschic al novantaduesimo la firma per il 3 a 0 finale abbiamo conquistato prima la salvezza che comunque era l'obiettivo primario di questa squadra di questa società poi i playoff è adesso il primo turno dei playoff il Monterisi per noi è un valore aggiunto e ce lo teniamo stretto nel secondo turno playoff oltre a Foggia Picerno domenica 14 maggio sarà derby tutto pugliese tra Audace Cerignola e Monopoli questo era il nostro ultimo servizio grazie per averci seguito buon proseguimento di giornata